Una banca vicina a tutti, ma per davvero. Come si sta bene in questa banca? Muolo. Io ho rilanciato l'azienda. Io ho attivato il conto Rott. Io ho disfrutturato casa. Soddisfatto? Tu l'ho levita? Come accogliente questa banca. Sì, anche io ci sono trovata benissimo. Una banca che attira, ma per davvero. Grazie a tutti.